Gentili telespettatori buona giornata Matteo Renzi ormai lo conosciamo Matteo Renzi il pizzino alla Meloni se con Salvini e Berlusconi che come adesso ve lo spiego meglio un attimino di pazienza abbiate un po di pietà per questo professore che tutto il giorno fa video ecco va bene allora chi ha permesso a Ignazio Maria Benito la russa come specificano nei programmi di sinistra come dire ma questo si chiama Benito l'avete notato no adesso non lo chiamano più Ignazio la russa lo chiamano Ignazio Benito Maria la russa perché lui ha anche come nome Benito allora Maron Maron Urso si chiama Adolfo Ignazio si chiama Benito c'è Benito e Adolfo no come diceva uno bottura dice ma ma come Urso di Fratelli d'Italia che si chiama Adolfo va negli Stati uniti con quel nome a rassicurare che non è tornato no vabbè sono sciocchezze infatti quello della trasmissione dice ma scusi eh bottura ma il nome uno mica se lo sceglie non mi puoi andare a criticare Urso perché si chiama Adolfo Urso e c'è il nome come quello là degli anni venti adesso non possiamo dire che adesso attaccare la russa perché il secondo nome o il terzo nome fa Benito cioè gli hanno messo i genitori lui manco poteva parlare quando gli hanno messo il nome immaginatevi la russa che piccolo in braccio all'anagrafe dice no no perché poi no no perché poi quando mi divento presidente del senato mi lo rifacciano no immaginate la russa piccolo che non riesce a parlare perché non sa parlare con i genitori allora lo chiamiamo ignazio maria benito ecco va bene insomma io ho fatto anche la russa quando non poteva parlare no perché era piccolo appena nato uno mica parla no fa inghè va bene comunque chi ha votato per far passare ignazio la russa renzi dice non sono stato io ve lo avrei detto subito e allora molti pensano a franceschini e ha la sua corrente e franceschini dice ma per chi mi avete preso ma siete fuori di testa allora qualcuno dall'altra parte vuole vuole che il centrodestra governi perché o vuole che il centrodestra governi per andare a sbattere entro dicembre andare nuovamente ad elezioni anticipate perché se tutto andava liscio o comunque c'era uno scontro potrebbe comunque scombussolare i piani della sinistra che vuole prima che governino per e che vadano a sbattere non vuole la sinistra non vuole andare a elezioni domani di nuovo vincere poi non saper fare con l'economia lasciamo che la meloni vada a sbattere con quel problema economico che c'è poi a gennaio andiamo a governare noi tutti insieme allegramente pd 5 stelle calenda tutti insieme che abbiamo il 50 per cento però prima facciamo andare a sbattere la meloni così perde voti noi ne prendiamo ancora di più perché chi un governo che dura tre mesi è finito poi non ti vota più nessuno e la gente poi comincia a votare per calenda abbiamo provato la meloni chi ci rimane proviamo calenda no che forse più a destra poi scopriremo che anche calenda si chiama benito calenda no vabbè a parte gli scherzi chi ha votato per la russa se è qualcuno che ha votato per far andare a sbattere il governo meloni per farlo partire farlo andare a sbattere è anche plausibile ve l'ho spiegato qual è la teoria oppure può essere il pizzino di renzi renzi che dica per lusconi c'ha l'otto per cento noi abbiamo l'otto e berlusconi è arrabbiato non vuole far cominciare il governo la meloni dice adesso che faccio non governo più un governo più che faccio eh allora potrebbe esserci calenda e renzi che fanno ehi ci siamo noi siamo la coppia più bella del mondo calenda e renzi potrebbero dire yuhu ci siamo noi a fare il governo con voi secondo voi salvini avrebbe problemi a fare il governo con renzi e calenda no la meloni o così o a casa e calenda che ha detto mai con mai con quella gente secondo voi ma non avete notato che calenda è un uomo di destra non di centrodestra ma di destra voi sapete che c'è la destra di destra e la destra di sinistra la destra di sinistra è uguale alla destra di destra adesso quello è un concetto un po complicato ve lo spiego un'altra volta ma calenda è uno di destra non di centro sinistra di questo è uno di destra questo è uno di destra è anche un duro finché è all'opposizione e deve contrastare meloni due persone di destra fanno le scintille due persone di destra che stanno all'opposto di schieramenti fanno le scintille ma se due di destra col carattere forte con la stessa tipo di visione li metti insieme sono una potenza se voi mettete dalla stessa parte calenda e la meloni che hanno due testoline che funzionano molto bene anche se il centrodestra sta denigrando calenda perché minacciava le elezioni ma realmente l'elettore di calenda è molto simile all'elettore di fratelli d'italia la meloni è una con gli attributi calenda pure la meloni dice le cose così come stanno e calenda pure non hanno peli sulla lingua tutte e due questi due sono uguali però se li metti in schieramenti opposti fanno le scintille ma se li metti dalla stessa parte diventano una forza quindi questo discorso che vi sto facendo io potrebbe averlo fatto renzi a calenda dire ma andiamo al governo certo che poi renzi salvini messi insieme poi non lo so realmente quanto può durare un governo però potrebbe esserci la volontà di calenda e renzi hola hola siamo qui al posto di berlusconi e voi direte meglio berlusconi o meglio calenda non lo so bisognerebbe vederli alla prova del 9 alla prova del 9 però la situazione è proprio bruttarella peggio di così se comincia un governo non potrebbe cominciare questo è qualcosa che non avevamo mai visto una roba del genere siamo veramente a un livello tale da farci ridere dietro credo dall'universo non dal pianeta terra ma dall'universo arrivederci a tutti e grazie